Ci troviamo presso lo spazio di Aran Cucine, sono Marco Piva e ho avuto oggi l'opportunità di presentare un nuovo progetto. Io non amo l'idea di arredo, amo l'idea di architettura degli interni e quindi gli oggetti che penso che devono essere inseriti nella casa li immagino come in continuità con gli spazi dell'architettura stessa. Quindi la luce è l'elemento determinante di questa nuova idea di cucina che connessa una serie di elementi che per me sono significativi perché legano un prodotto di arredo agli spazi in cui deve essere inserito e all'architettura. Quindi è un progetto dinamico, un progetto colorato, un progetto sostenibile, un progetto disegnato dalla luce.